Il professor Garattini oltretutto ha dedicato una vita alla scienza e alla ricerca e io credo che mai come in questo periodo per la nostra regione la ricerca sia un asset di grandissima rilevanza, sia qualcosa nei confronti della quale noi abbiamo dedicato e stiamo dedicando tanto impegno perché sono assolutamente convinto che la ricerca e l'innovazione siano asset attraverso i quali si può sviluppare il futuro della nostra regione. Un riconoscimento importante, un uomo capace tanto per la ricerca non solo in Lombardia, però ha lanciato anche un appello, la Lombardia fa molto ma dovrebbe fare un po' di più. Ma condivido, io credo di poter dire che la Lombardia sia l'unica regione che ha un investimento che può essere paragonato a quello della Germania, delle principali nazioni. La Lombardia deve comunque concentrarsi, mantenere se possibile migliorare il livello di investimenti perché come ha detto il professore e come anch'io più modestamente sostengo, il futuro è soltanto nella ricerca e nell'innovazione e nel capire che si deve cogliere questa grande opportunità che la Lombardia può avere a sua disposizione. Presidente, il professore ha detto che il numero di medici attualmente è basso, rischia di esserlo ancora di più avanti e ha detto che dovremmo ricorrere di conseguenza a personale straniero, anche per il personale infermieristico. Cosa si può fare? E vede, quella è una cosa che stiamo sostenendo anche noi ma mi sono contento che l'abbia detto il professore perché noi lo lamentiamo da tempo ma nessuno dice e fa assolutamente niente. Io credo che sia una cosa che ha dell'incredibile, abbiamo necessità di più medici e abbiamo le università che pongono il numero limitato delle iscrizioni. È una cosa che non ha veramente senso, i ragazzi, ci sono tantissimi ragazzi che vorrebbero iscriversi a medicina e che devono sottoporsi a una serie di test per poter entrare nelle facoltà. Allora io credo che su questa cosa il governo per adesso, un domani se dovessimo avere più autonomia con l'autonomia dovremmo fare delle scelte diverse. L'invito è veramente che si allarghino i numeri, che si aumentino i numeri, soprattutto delle scuole di specialità perché altrimenti il rischio è per tutto il sistema nazionale. A proposito di autonomia, la regione ha già pronte le richieste da Consigliere al Ministro per entro l'estate? Noi siamo pronti, entro la fine di luglio andremo a Roma a portare quelle che sono le nostre richieste. C'è qualche priorità? Noi partiamo sicuramente dalle cinque richieste che ha presentato già Maroni, implementeremo il numero e approfondiremo. È chiaro che dato che è necessario fare un approfondimento per adesso inizieremo a partire con un numero non tutte. Ecco, non tutte. Quando sarà pronto l'istruttoria gradualmente presenteremo anche la richiesta per le altre. Grazie.